Salve a tutti i gamers e benvenuti in questo nuovo video Oggi, e purtroppo il video di poco fa si è buggato L'ho rifatto Ci stavo facendo un video, ad un certo punto si è buggato il telefono O si è buggato il gioco, o si è buggato, vi ricordo Ecco, ragazzi stasera live E cantiamo dal microfono delle... e canto dal microfono delle cuffie Non mancate ragazzi, non mancate Perché stasera giochiamo a Brawl Stars Scima Brawl Stars E ha aperto un contest dove possono partecipare solo le persone che si iscrivono al canale Lascia un like a un mio video che io metto su Youtube E commentare con almeno tre commenti belli, perché l'ho deciso io Iscrivetevi a carola Midnight, mi raccomando Iscrivetevi a carola Midnight Poi Oltre ad iscrivervi al mio canale, attivate la campanella per rimanere attivi Altrimenti non sarete vincitori del contest E io estrarò una persona a caso Non lamentatevi se non estraggo il ragazzo che voleva vincere il contest Scusate ragazzi, ma questo contest è ad estrazione Non dico al vincitore chi lo vuole No Dico che praticamente Praticamente è ad estrazione Estraggo chi fa tutti i passaggi E poi il premio sarà che giocherà con me in live Gli darò il codice della squadra Cioè ma non lo darò solo agli E farò giocare in live Solo chi fa tutti i passaggi Ed è estratto al con Oh madonna santa Abbiamo perso Abbiamo perso ma ci chiedevo come mondiale delle reazioni di Youtube Non mi dare il copyright E vabbè ragazzi Qua stiamo già dando Dissettolo dal Dissettolo Dalle 9 di mattina Non scherzo io 9 di mattina Ero a scuola Entro alle 9.10 ogni mattina Perciò stasera live non mancate ragazzi Perché ci saranno alcuni dei miei compagni E ci divertiremo Tutti quanti Tutti quanti ci divertiamo stasera in live Canterò dal microfono Delle gufri Non mancate ragazzi Divertentissime Non potete capire Andiamo a Come YouTube non mi dare il copyright YouTube non me lo dare il copyright Perché questo è solo un innocentissimo gameplay di Dissettino Wow Un attimo Ragazzi no sta finendo tutto Sono circondato E vabbè ho perso Ho perso Vabbè ragazzi Scusate per il video Che è troppo corto Ma noi ci vediamo Alla live di stasera E al prossimo video Ciao ragazzi Alla live di stasera Ciao